Il buio è il miglior amico dei dettagli. I sensi si acuiscono e colgono quanto può essere intenso il piacere di guidare. È l'ombra a mettere in luce la perfezione. Prima di essere distratti dall'abbagliante splendore della bellezza. Nuova BMW Serie 4 Coupé, disegnata per il piacere di guidare. Scopritela il 5 e 6 ottobre. E con BMW Free to Drive, dopo due anni siete liberi di restituirla. Grazie a tutti.